Era il Giaffar di San Giorgio a Cremano. Sul suo PC i pubblici ministeri napoletani trovano, tra tantissimi altri elementi, una mail con un ordinativo di armi. Ciao Anna, avrei bisogno di Jap, Igla, Sam? Ovvero, scrive la procura, modelli di missili anticarro e terra-aria di produzione sovietica. E' questa la storia di Mario Di Leva, della moglie e di suo figlio, convertita all'Islam. Dal comune del Vesuviano e attraverso numerosissimi viaggi internazionali gestiva il business delle armi, trafficando in elicotteri e missili d'assalto di produzione sovietica. Mario Di Leva, con sua moglie Anna Maria Fontana e il loro figlio, risultano coinvolti insieme ad altri libici e ad Andrea Pardi, amministratore delegato della società italiana elicotteri, nel blitz disposto dalla procura di Napoli con i quattro fermi eseguiti dal nucleo della tributaria della finanza di Venezia. Intercettazioni, perquisizioni anche a Salerno e ad Aquila, a Yatti, è riportato che la donna risulta legata al governo iraniano e all'attuale governo provvisorio della Libia. Non solo, una foto ritrarrebbe la coppia in compagnia dell'ex premier iraniano Ahmadinejad. Un filo di una delle tante indagini sul clan dei Casalesi, in particolare su alcune anomale frequentazioni della famiglia chianese, personaggi del nord Italia poi intercettati, ha condotto il PM fino alla compravendita dei mezzi dual use e a quella della famiglia del Vesuviano. Dalle intercettazioni sarebbero emersi presunti contatti tra i coniugi di San Giorgio a Cremano e i rapitori di quattro italiani sequestrati in Libia nel 2015. La circostanza sarebbe venuta alla luce da alcuni sms di poco successivi al sequestro, in cui i coniugi facevano riferimento alle persone già incontrate qualche tempo prima, alludendo a loro come autori del rapimento.